La figura di Emanuele Vinat, filosofo ebreo di origini lituane ma la cui lingua è il francese, passerà gran parte della sua vita in Francia, è una figura centrale nel ventesimo secolo. La sua vita si estende lungo tutto il secolo breve, dal 1905 al 1905. La sua è una biografia intensa che lo porta a vivere i momenti topici del secolo passato, a cominciare dai terribili anni 30, poi dalla seconda guerra mondiale, passando per i campi di prigionia, che lui provò sulla sua pelle come ufficiale francese prigioniero dei tedeschi. Per fortuna si salvò perché fu considerato primieramente francese e ufficiale dell'esercito piuttosto che ebreo. Ma la Shoah non risparmiò parte della sua famiglia, dunque fu colpito anche dalla tragedia della Shoah personalmente, dal punto di vista familiare. E poi gli anni del dopoguerra, fino alla consacrazione della sua filosofia negli anni settanta, Levinas è rimasto in parte sconosciuto alla filosofia italiana, è entrato solo di recente nei manuali scolastici ed è un autore che purtroppo, dico purtroppo perché veramente la sua filosofia è di grande attualità, è un autore che compare poco nei programmi liceali e poco trattato, ma insomma noi abbiamo deciso di dedicargli un quadro significativo e perché ci interessa il tema dell'altro, del rapporto con l'altro. Tema che abbiamo scelto anche come punto di riferimento, punto di partenza per le nostre riflessioni durante la notte bianca del liceo classico e al quale abbiamo dedicato un piccolo libro, un piccolo e-book. E dunque mi sembra, ecco, opportuno come cappello di questa riflessione condivisa trattare la filosofia di Levinas. A Kaunas, dove nacque in Lituania, un paese che all'epoca si trovava sotto il dominio zarista, della Russia zarista, il padre di Levinas era libraio, la madre innamorata della letteratura russa, il russo parlato anche a casa, e dunque il primo approccio con la cultura del giovane, giovanissimo, Levinas è proprio quello con la letteratura russa. Sarà lui stesso in una dichiarazione, in una intervista rilasciata alla TV olandese, a dichiarare questo suo amore per la letteratura russa e a prendere la letteratura russa come maestra di vita. I miei primi maestri, ebbe a dire, sono stati proprio i Dostoievski, i Tostoi, i Gogol, Pushkin, quindi i grandi capolavori della letteratura russa, tanto a significare lo stretto legame che intercorre tra la filosofia e la letteratura. E poi si troverà in Ucraina durante lo scoppio della rivoluzione bolshevica, è giovanissimo, quindi la rivoluzione lo colpisce, per così dire, di striscio, ma lascia comunque un'impronta nella storia di questo grande personaggio. Poi finalmente arrivo in Francia, quindi lui è esule, errante, ma come capita spesso agli ebrei, no? L'ebreo errante è una figura, come dire, è un topos, è un topos della cultura occidentale, no? Ecco, nel 1923 lo troviamo in Francia, a Strasburgo, in Alzazia, ai confini con la Germania, dove studia, si forma, quindi il francese diventa la sua seconda lingua, poi in un certo senso la sua prima lingua, è la lingua in cui lui scrive i suoi libri più famosi. E poi lo troviamo al di là del Reno, in Germania, a Friburgo, dove incontra tra il 1928 e il 1929 due personaggi chiave della filosofia novecentesca, Edmund Husser, il padre della fenomenologia, del metodo fenomenologico, e il giovane Heidegger, Heidegger che l'anno successivo pubblicherà, nel 1929, quel Sein und Zeit, Essere e Tempo, che è una forse delle opere più famose della filosofia novecentesca, e in particolare dell'esistenzialismo. E quindi sarà legato, per motivi intellettuali, ad Heidegger, anzi, di Heidegger e Husserl, curerà la pubblicazione delle opere in lingua francese, una volta tornato al di là del Reno, e il rapporto con Heidegger sarà un rapporto, come dire, complesso. Heidegger nel 1933, come molti altri professori universitari, accademici tedeschi, aderirà, non si sa fino a quanto, dal punto di vista puramente formale, al nazismo, comunque aderirà al nazismo, e la sua posizione rimarrà comunque in una posizione ambigua, ambiguità che poi non si chiarirà nemmeno dopo la Seconda Guerra Mondiale. E infatti, Levinà avrà modo di dire del grande filosofo tedesco, a molti tedeschi si può perdonare, ma ci sono tedeschi ai quali è difficile perdonare, è difficile perdonare a Heidegger. Forse è difficile perdonare Heidegger proprio perché la sua scelta esistenziale, la sua scelta di vita, in un certo senso si è messa di traverso con la sua filosofia. Scelta di vita, intendo dire, in questo caso qui, aderire al nazismo, sposare, se non in pieno, un'ideologia, sposare comunque un clima culturale, e farsene in qualche maniera interprete. Ma insomma, poi delle vicende di Heidegger avremo modo di dire successivamente. Poi c'è la parentesi dolorosa della guerra, cinque anni di prigionia, dal 40 al 45, Levinà sarà tradotto in un campo di prigionia tedesco, sopravviverà, perché non si tratta di un campo di sterminio, non si tratta di un campo di annientamento, durante la lunga prigionia riempirà tacquini su tacquini, quaderni su quaderni, di memorie, di riflessioni, sarà poi liberato, rilasciato, dopo la la seconda guerra mondiale, ma ecco, la Shoah gli porterà via i genitori, e due fratelli che verranno ammazzati in Lituania, rimasti in Lituania, durante l'avanzata della Wehrmacht, all'epoca dell'operazione barbarossa, nel giugno del 41. Dopo la guerra, Levinà tornerà in quel di Francia, e si metterà a studiare il Talmud, il Talmud lo conosceva anche prima, naturalmente, ma dal 57 in poi ricevette un incarico piuttosto prestigioso, quello di di guidare, di dirigere la scuola normale israelita orientale, e si cimenterà, ecco, nel commento del Talmud. Il Talmud è, per capirci, uno dei libri fondamentali della cultura ebraica, è un commento, un commentario alla Torah, la Torah, ovvero il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, sostanzialmente, Talmud è un repertorio di considerazioni filosofiche, ma anche giuridiche, morali, legato alla Torah. La lettura, il commento del Talmud è, come dire, l'altra ispirazione culturale forte di Levinà. Quindi, le sue fonti, beh, le abbiamo dette, in una parte c'è la letteratura russa, ovviamente, c'è la fenomenologia di Husserl, l'esistenzialismo di Heidegger, ma Levinà in Francia conoscerà anche Sartre, Camus, insomma, entra anche nel vivo del dibattito culturale francese, quindi è un intellettuale piuttosto vivo, e essendo ebreo l'altra fonte di ispirazione è quella del Talmud, quindi la tradizione ebraica, un po' come lo Spinoza, no? Il nostro vecchio Spinoza, il quale aveva questa sorta di ispirazione tripartita, no? L'attualità, all'epoca l'attualità era costituita dal cartesianismo, la filosofia cartesiana, nel ventesimo secolo non c'è più il cartesianesimo, c'è il neopositivismo da una parte e poi c'è l'esistenzialismo, no? E' la fenomenologia che abbiamo detto, poi c'è la grande tradizione ebraica, quindi la lettura della Torah e il Talmud, e in ultimo la lettura dei classici, qui oltre ai classici greci e latini abbiamo la letteratura russa, che evidentemente la grande letteratura russa che è ottocentesca, quindi evidentemente Spinoza non poteva conoscerla. Le sue opere più famose, ecco poi Levinà diventerà professore universitario, finirà anche con l'insegnare per un certo periodo di tempo alla Sorbona, ma con la sua fama fondamentalmente, fama piuttosto tardiva in realtà, perché in Italia Levinà verrà conosciuto successivamente, lo si inizia a prendere in considerazione tra gli anni 70 e gli anni 80, quando ormai è piuttosto vecchio, ma insomma la sua opera principale è del 1961 Totalità e infinito, diciamo una pietra micchiare nella storia del pensiero novecentesco, poi l'altra pubblicata nel 1974 intitolata Altrimenti che essere o al di là dell'essenza. Per esporre la filosofia di Levinà cominciamo con questa grande metafora, ecco io ho scelto un percorso fatto di suggestioni e di suggestioni che sono letture di testi di Levinà, brevi testi, concetti chiave che andrò a commentare e a esporre, nonché fotografie, immagini, ho voluto curare anche la parte iconografica, perché in una presentazione fatta su YouTube mi sembra che anche la parte iconografica debba avere un suo peso specifico. Ma insomma cominciamo con la prima figura che ho scelto per esporre la filosofia di Levinà, cioè quella di Abramo versus Ulisse, cioè la contrapposizione tra Abramo e Ulisse. E Abramo e Ulisse rappresentano d'altro canto il campione, il simbolo del pensiero ebraico, no? Abramitico per l'appunto, ma anche della tradizione islamica e di quella cristiana peraltro. e quindi il luogo il topos, il luogo chiave è Gerusalemme. Ulisse, Atene, lo spostamento da Itaca ad Atene è uno spostamento un po' forzato, ma in un certo senso Ulisse è il modello della cultura greca ed è anche il modello della cultura occidentale, la cultura occidentale che si richiama appunto al mito di Ulisse. E qui un elemento che diventa centrale l'esodo versus il ritorno. Ecco la contrapposizione. Abramo è uno che parte e parte verso l'ignoto. Yahweh lo comanda. Gli dice di partire, di prendere la strada del deserto. Va verso un destino sconosciuto, destino sconosciuto che è illuminato dalla sede nel Dio. ma insomma la prova è una prova difficile, dolorosa, è una sfida. Abramo cammina verso ciò che è assolutamente altro, ciò che è assolutamente differente. Fa un cammino in un certo senso filosofico, se per filosofia intendiamo l'amicizia, l'amore, il desiderio verso ciò che è sconosciuto e che si vorrebbe conoscere. Ciò che è sconosciuto è veramente l'altro. Quell'altro che in prima battuta ci terrorizza, ci stupisce, ci imbarazza, a volte ci getta nel panico, nello sconforto. Perché? Perché non sappiamo come gestirlo, perché il conosciuto è assicurante, dunque è un elemento psicologico, credo facilmente comprensibile per tutti, ricondurre lo sconosciuto all'interno delle categorie con cui in maniera che così poco significativa, ma insomma categorie che si sono utilizzate per ricondurre ciò che è altro nell'ordinario, nel quotidiano e quindi qualcosa che riusciamo a gestire. Ecco, beh, questo è esattamente l'opposto della sfida che deve sostenere Abramo, che ha il coraggio di affrontare il totalmente diverso. Quindi filosofia qui intesa come amore dell'ulteriorità, di ciò che non si conosce dell'altrove. Un amore che non è affatto scontato evidentemente, è un mettersi alla prova. Poi abbiamo la figura di Ulisse, Ulisse è una figura della nostalgia, nostalgia è una parola che è stata coniata nell'Ottocento, quindi abbastanza recente, la sua etimologia è chiaramente greca, nostos, è il ritorno, algia, tutte le parole con la componente algos indicano sofferenza, dolore, come nevralgia per esempio, è il dolore del ritorno. Il dolore del ritorno è parola altrimenti indicibile, la voglia di ritornare, il presentire la casa, il sospirare per la casa e la casa rappresenta ciò che è conosciuto, ciò che è noto, è un cammino in un certo senso antifilosofico perché dall'ignoto in cui già mi trovo, Ulisse, in cui sono costretto a transitare, l'isola di Ogigia, la Magacirce, il Ciclope, Scille Cariddi, l'ignoto, l'assolutamente ignoto, il barbarico, l'estraneo, mi trovo straniero in terra straniera e quindi bramo il ritorno, il ritorno verso ciò che conosco, quindi in certo senso è un cammino antifilosofico, ben inteso antifilosofico rispetto alla definizione che ho dato prima di filosofia come apertura verso il nuovo, verso l'altro, verso l'altrove. Quindi Ulisse rappresenta il ritorno a casa, ritorno a casa che è tipico poi di tutti gli eroi greci che abbandonata la terra di Troia, abbandonati lì di Troiani alla fine della guerra attraversano mille veripezie per tornare a casa dove a volte trovano anche situazioni inedite trovano la morte vedi il caso di Agamemnon Pugnalato da Agli Tennestre. Ecco, che cosa rappresentano queste due figure? Cosa rappresenta il ritorno? Il ritorno è come dire la cifra dell'Occidente e il voler ricondurre tutto ciò che è estraneo, ciò che è altro, ciò che è sconosciuto all'interno delle categorie del conosciuto e quindi poter riabbracciare il padre, riabbracciare la moglie, farsi riconoscere dal cane argo significa che cosa? Significa che tutto ciò che era sconosciuto, che era estraneo, io l'ho in qualche maniera ripreso, rimodellato, passando di sofferenza in sofferenza indubbiamente e l'ho ricondotto all'interno di ciò che io conosco, l'ho dominato, l'ho preso, l'ho trasformato in concetto, da latino cuncapio, l'ho afferrato, quindi indica questo tipo di conoscenza, una conoscenza che tende a prendere, ad afferrare, a definire, a limitare, di contro il modello di conoscenza abramitico, l'abbandonarsi, il lasciarsi andare, il lasciarsi andare che chiama in causa la trascendenza, l'altrove, l'ulteriore, di contro all'immanenza tipica della concezione greca, quindi del pensiero occidentale in genere, incarnata da Odisseo. Ma sentiamo cosa ci dice Levinà, Ulisse parte, Abramo parte, un viaggio e un esilio, l'uno con la speranza di ritorno, l'altro verso un'altra terra, una terra straniera che diventerà sua, uno ritorna, l'altro non cessa di camminare, uno a casa sua, l'altro altrove, uno verso l'ambiente familiare dell'isola natale, l'altro verso l'incognita di un paese di cui non è originario, l'uno e l'altro certamente trasformati dalla strada, la polvere, le prove e gli incontri, tuttavia il loro cammino può essere identico. Il primo fa l'esperienza del ritorno alle stesse cose e il secondo l'esperienza di un'alterità infinita che alla fine non è tanto quella della meta quanto quella di Dio, due partenze, poi un ritorno e una chiamata. non si valuta allo stesso modo quello che si è lasciato nel cambiamento avuto lungo il cammino rispetto a un ritorno o rispetto a Dio perché Abramo più di Ulisse richiama la figura del pellegrino il viaggio di Ulisse è circolare egli ritorna a quello che conosce ed è appagato da questo ritorno. Abramo è libero riguardo ai luoghi qui o là quello che importa è colui che guida il cammino di Abramo è desiderio non ha mai finito di lasciarsi sorprendere dall'inaudito di Dio e non vuole un luogo dove fissare Dio il cammino di Abramo ci insegna che Dio stesso è nomade giacché non si lascia delimitare da nessuna nostra parola o rappresentazione non si può dire eccolo qui o eccolo là Dio chiama altrove Abramo è condotto al di là di quello che pensava di quello che avrebbe potuto prevedere ascoltando la promessa che l'ha messo in cammino poiché Dio stesso è sempre ancora al di là di quanto scopriremo su di Lui in tal luogo o in tale passaggio Dio è sempre più grande sui passi di Abramo il cammino ci trasforma veramente se ci lasciamo condurre al di là delle nostre attese buone o giuste che siano se non cerchiamo di tornare al già conosciuto né di ripetere quello che fu bello in altre occasioni partire e perdere perdere senza aspettare un contraccambio senza sapere quello che si troverà o che sarà dato usare di essere sconfitto rischiare di perdersi per lasciarsi plasmare da colui che sorprende piuttosto che preferire la comodità delle certezze delle tracce segnate dalle boe Emanuele Vinat con o senza biglietto di ritorno quindi partire è aprirsi all'alterità all'altrone e il rischio del disorientamento il bisogno di una mappa una mappa che non si ha mai perché Dio non è qui né lì una terra promessa non è né qui né là è sfuggente non si lascia definire il trascendente è al di là delle nostre possibilità si ritrae sempre un po' più in là ma è ciò che stimola i nostri passi che guida i nostri passi che guida passi veramente filosofici in questo senso filosofici nel senso di autenticamente metafisici e autenticamente etici perché questo atteggiamento dell'esodare dell'essere in cammino è nel contempo un richiamo metafisico verso l'altrove verso il trascendente quindi non è concentrico è eccentrico e nello stesso tempo è etico perché ci insegna a camminare cioè ci insegna il passo che segna il ritmo del quotidiano che dà senso e significato al quotidiano ho scelto un paio di immagini la prima antica Ulisse in partenza in partenza sulla via del ritorno il Nossos ha inizio e poi una fotografia tratta dalla contemporaneità dei profughi siriani in marcia lungo una strada sterrata loro sì stanno andando verso l'altrove verso lo sconosciuto stanno esodando stanno compiendo obtortocollo a causa della guerra sono costretti a compiere un salto nel buio verso ciò che non è familiare che è disorientante al massimo grado quindi al di là pensateci bene al di là dei rischi del tormento della fatica del tormento della fame della sete della paura la paura della guerra della disperazione c'è questo andare verso l'ignoto l'incertezza di un domani che non si sa dove sarà non sarà qui non sarà là pensate quanto è significativo quanto è umano questo tipo di sentimento questo tipo di sensazione perché accompagna l'umanità come ci dice l'antropologia accompagna l'umanità sin dalle origini l'umanità homo sapiens è fondamentalmente una creatura nomade da quando ha abbandonato le alture etiopi l'africa orientale spingendosi verso la palestina e poi da lì dallo snodo medio orientale verso l'asia l'europa homo sapiens è creatura nomade emigrante va verso l'ignoto prima ancora di tornare a casa di avere una casa una wikia un palazzo dove tornare è l'animale che tende verso l'ignoto verso l'altrove verso l'altro e dunque imparare a pensare in maniera eccentrica che vuol dire in maniera eccentrica l'eccentricità di Levinà in che cosa consiste in questo andare fuori centro il centrico vuol dire cantare fuori dal coro quindi una voce fuori dal coro da una parte l'andare in una direzione opposta rispetto agli altri l'eccentrico fa questa roba lo fa per moda oppure lo fa per convinzione profonda convinzione che nel caso di Levinà è una convinzione metafisica e allora cosa vuol dire eccentrico eccentrico in questo caso vuol dire andare oltre andare al di là andare da un'altra parte rispetto all'idea di essere tutta la filosofia occidentale è ruotata intorno all'idea di essere è l'idea di Parmenide quell'essere che è che non può non essere la ben rotonda sfera un essere che di volta in volta è diventato più o meno granitico più o meno possibilista e dialettico come nel caso del del platone dei dialoghi della vecchiaia ma del platone del sofista per esempio ma comunque rappresenta la stella polare della filosofia occidentale quel principio di identità che è il punto di partenza della logica occidentale da qui deriva il principio di contraddizione e da qui deriva quel principio del terzo escluso ovvero falso terzium non datur che rappresenta come dire la struttura base del pensiero occidentale della logica occidentale nonché della scienza occidentale e che vuol dire principio di identità vuol dire tendenza ad assimilare tutto quello che io posso conoscere lo debbo per così dire omogenizzare lo debbo ricondurre concentricamente che è un ostos in un certo senso lo debbo prendere predare riportare nella mia immaginaria taverna lo debbo ricondurre all'interno del già noto questo vuol dire capio afferrare prendere un atto predatorio quindi omologare identificare sostantivare questo è il cammino del dell'ontologia occidentale anche di quell'essere heideggeriano che ha connotazioni decisamente diverse riformulate rifondate rispetto a quella della tradizione occidentale naturalmente l'ontologia di heidegger è ben diversa è una ontologia dell'apertura del possibile in certo senso dello scenario dello sfondo del possibile come condizione del pensarsi in termini esistenzialisti del singolo individuo del singolo uomo quindi è un essere aperto ma è comunque una forma di essere una forma di essere che alla fine diventa costrittoria ecco il pensiero di Levinas rappresenta invece una forma di esodo un muoversi nella direzione opposta uno spezzare le catene dell'essere ecco Auschwitz lo abbiamo detto segna una tappa fondamentale del ventesimo secolo dopo Auschwitz non si può più ripensare il mondo e non si può più fare filosofia sia per gli ebrei che per i non ebrei cambia poco ma insomma per gli ebrei in modo particolare non si può più fare filosofia come prima perché qual è il legame tra la filosofia occidentale ed Auschwitz dal punto di vista di Levinas ebbene questa questo identitarismo per così dire totalizzante questo voler controllare tutto ricondurre tutto all'interno delle proprie categorie espellere l'altro espellere il diverso fino al delirio della razza pura passando da una concezione totalizzante dal punto di vista ontologico totalizzante a livello sistemico pensate alla filosofia di Hegel un sistema che totalizza il reale riconducendolo nella figura dello spirito assoluto assoluto è onnicomprensivo è fagocitante non rimane altro non c'è nulla lì fuori e dove si potrebbe andare si può solo rimanere qui dentro tutto ciò che è fuori o viene assimilato viene assimilato come i popoli arianizzabili o ariani o parariani oppure è espulso da fine diventa strumento mezzo schiavo del terzo reich quindi anche la scienza alla fine perché il meccanismo del terzo reich è anche un meccanismo della tecnologia è totalizzante quindi non solo dal punto di vista etico se mi è consentito usare la parola etica naturalmente per il terzo reich non solo è totalizzante dal punto di vista delle strutture statuali è totalizzante dal punto di vista antropico per così dire una sola idea di uomo che deve essere biologicamente concepito come uomo superiore colui che appartiene alla razza pura che esclude tutto l'altro da sé ecco dunque arrivare essere arrivati a questo beh non è un puro e semplice incidente ma questo Levinat pensate l'aveva notato già in un libello che risale del 1936 si intitola alcune riflessioni sulla filosofia dell'hitlerismo aveva detto Levinat ogni civiltà che accetta l'essere la disperazione tragica che comporta i crimini che giustifica merita il nome di Barbara e barbarie i figli di Goethe e di Hegel di Kant per cui l'uomo deve essere sempre fine e mezzo hanno prodotto si sono ritrovati a produrre quella barbarie è stato un incidente una parentesi no non è un incidente c'è un legame tra la concentricità tra il procedere concentrico totalizzante identitario ontologicamente forte del pensiero occidentale e il terzo Reich è Auschwitz a queste riflessioni Levinat giunge anche attraverso l'influenza di un altro grande filosofo ebreo Rosenzweig ebreo tedesco anche lui il quale aveva già come dire toccato il nervo scoperto della filosofia della potenza intesa declinata in senso occidentale del resto il clima culturale da cui poi deriva la barbarie del ventesimo secolo degli anni trenta degli anni quaranta ma anche la barbarie successiva per carità è un clima che si è andato formando tra diciannovesimo secolo inizio del ventesimo secolo un clima assolutamente diffuso non etichettabile con questa o quella razza figuriamoci non è da imputare a questa o quella nazione a questo o quel popolo e non parla questa o quella lingua è un clima complessivo e dunque lo si può designare in un certo senso con la parola occidente occidentale anche l'angoscia l'angoscia cambia l'angoscia di cui avevano parlato gli esistenzialisti di cui aveva parlato Heidegger in essere e tempo dopo Auschwitz prenderà altre forme si dirà in un'altra maniera l'angoscia non è più lo stato di di confusione di deriva ontologica di spaisamento di fronte all'apertura delle possibilità termini esistenziali se l'essere è possibilità edunque non esiste nulla di predefinito ma io gettato nel mondo devo prendermi la responsabilità di creare i valori di stabilire i criteri in base ai quali orientare la mia vita le decisioni che debbo prendere ebbene provo Sartre l'essere condannato alla libertà dell'uomo bene l'angoscia del prigioniero di Auschwitz è un'angoscia diversa è l'angoscia di chi ha vissuto la cosalizzazione è diventato un ente una cosa tra le cose è stato trasformato in cosa o peggio ancora in strumento ha perso la sua natura umana è stato privato del fine è stato privato in un certo senso del suo volto insieme al suo nome questa è la fotografia segnaletica di una ragazza di una giovane donna presa in carico da un campo di concentramento nazista si passa per queste foto di identificazione qui viene associato un numero diventi numero quantità non più qualità non volto numero è la civiltà della tecnica quella delle macchine le macchine ragionano in termini quantitativi e numerici gli uomini no gli uomini hanno un volto sono l'altro sono differenti ma tu il volto non lo vedi più perché il volto lo cancelli con il numero il numero che poi viene impresso anche sull'avambraccio del prigioniero non sei più pinco pallino non sei più mario rossi diventi 98288 numero che tu devi gridare in una lingua che non ti appartiene perché vieni privato anche della tua lingua lo devi gridare in tedesco lo devi dire in tedesco 9 act 2 act act lo devi ripetere tutte le volte che vieni chiamato sul piazzale per l'ispezione e ogni volta che qualcuno della razza superiore si rivolge a te dovrai ripetere quel numero perché tu sei quel numero capite che è una forma di angoscia decisamente diversa non l'angoscia del possibile e l'angoscia della chiusura di tutte le possibilità bulimia della filosofia occidentale bulimia sapete è la malattia quella per cui si inizia una malattia nervosa per cui si inizia a mangiare non ci si ferma più non si sta più a sentire lo stomaco si ascolta la mente la mente che diventa mente predatoria mangio tutto mangio tutto di più tutto quello che riesco a assimilare che riesco a ricondurre a me lo padroneggio io mi arricchisco divento più forte è un modo per esprimere l'ansia far fronte all'ansia no? e in un certo senso questa è la bulimia della filosofia occidentale no? quella dell'essere di Parmenide quella di voler ricondurre tutto a sé l'essere di Parmenide la ragione normativa kantiana lo spirito assoluto egeliano l'autocoincidenza dello spirito assoluto egeliano essere il concetto di essere il concetto di identità che è il punto di partenza della logica diciamo prima il concetto di sostanza aristotelico ciò che non muta nonostante tutto ovvero concetti forti omologanti e allora di contro a questo conoscere che è un capire un prendere un inglobare un assimilare in senso totalizzante c'è un'altra forma di conoscenza che possiamo ricondurre alla radice sa del verbo sapere viene dal latino sapere sale sapido sapiente il sapere di qualcosa l'avere un sapore ma l'avere un sapore è qualcosa di specifico di particolare vuol dire io ti riconosco nella tua differenza non ti sto prendendo non ti sto assimilando gusto il sapore di un cibo quando il cibo è ancora altro sento l'odore del cibo l'odore di una persona o le caratteristiche fisiche il volto lo sguardo unico irripetibile di una persona quello sguardo è metafisicamente mi sa di qualcosa mi sa di qualcosa quello che io conosco che assimilo che degludisco che trasformo in standard che formalizzo che concettualizzo beh quello non mi sa veramente di nulla diventa insipito insipito vuol dire anonimo inautentico diventa come quel numero tatuato sul braccio e dunque occorre sgombrare il campo da tutto ciò che è altro che sta altrove che è ulteriorità occorre ricondurlo all'interno della massa occorre massificarlo occorre disciplinarlo con le parole d'ordine occorre catalogarlo quantificarlo ammucchiarlo come i mucchi dei capelli dei peggionei di Auschwitz delle vittime o delle scarpe o dei denti d'oro cosa del genere dunque la filosofia dell'altrove dell'eccentricità in un certo senso la filosofia dell'altro di Levinas prende le mosse in funzione non anti-occidentale perché non si tratta di andare contro l'occidente si tratta di operare un correttivo di mostrare l'altra faccia della medaglia ma prende le mosse da questa forma di bulimia del pensiero occidentale ed è questo uno dei temi fondamentali che Levinas tratterà altrimenti che essere nel libro del 1974 dunque a un certo punto passare la parola d'ordine è passare dall'ontologia intesa nel senso per me in idea come dicevamo prima all'etica perché etica significa uscire continuamente da sé ponendosi la domanda incessante qui ed ora cosa debbo fare come debbo comportarmi in relazione all'altro solo in questo movimento incessante posso ritrovare effettivamente me stesso e scoprire che io è una funzione dell'altro non si darebbe io senza l'altro è una funzione relazionale di questo parliamo in una successiva lezione per adesso ci fermiamo Grazie a tutti. 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 Lascio la parola a Levinà. Questo è il testo tratto da un'intervista che Levinà rilasciò a una televisione olandese negli anni Ottanta. e anticipo qui dei contenuti che poi andremo a analizzare successivamente, ma una buona letta integrale credo che sia una degna presentazione di Levinà. Lui avrebbe voluto essere ricordato così perché questa sintesi della sua filosofia appartiene appunto al filosofo stesso. è un momento passionale, amore senza concupiscenza. non mi piace molto la parola amore. che viene usata è un'intervista che viene usata e abusata. chi è un'intervista che è un'intervista che è un'intervista che è un'intervista. e di conseguenza con ciò che è solo e può subire l'isolamento supremo che si chiama morte. e così in qualche modo l'incitamento all'omicidio, la tentazione di giungere fino in fondo, di trascurare completamente altri e contemporaneamente, e questa è la cosa paradossale, il volto è anche il tu non ucciderai. tu non ucciderai, che può essere esplicitato anche molto meglio. si tratta del fatto che io non posso lasciare altri morire da solo. c'è come un appello a me e vedete, è questo che mi sembra importante, la relazione con altri non è simmetrica. non è affatto come in Martin Boob, secondo il quale, allorché io dico tu ad un io, ad un me, io avrei questo io davanti come colui che mi dice tu. ci sarebbe di conseguenza una relazione reciproca. secondo la mia analisi, invece, nella relazione con il volto, ciò che si afferma è la simmetria. inizialmente mi importa poco ciò che altri rappresentano i miei confronti e affar suo. per me è prima di tutto colui di cui sono responsabile. quindi vedete il termine che ricorre spesso nel questo brano è responsabilità. ispirazione etica vuol dire responsabilità e vuol dire responsabilità verso la persona che abbiamo dinanzi, ma non solo verso la persona che abbiamo dinanzi, perché l'alterità si declina in tante maniere diverse. ecco che vicino al prossimo appare un altro tipo di prossimo, che è l'altro, è il terzo. quindi c'è un'alterità tra un io e un tu dialoganti, un io e un tu, che si incontrano in un momento, per così dire, di scambio, di immediatezza, ma c'è anche sempre un altro. e la responsabilità è circolare, quindi va oltre il tu che ho davanti. fermo restando che anche il tu che ho davanti rappresenta il volto dell'altro. ma quel senso di giustizia, quella caritas, che assomiglia indubbiamente alla visione cristiana, ma del resto la visione cristiana, quella evangelica, è di derivazione biblica, ha a che fare con la visione giudea, con la visione della Torah. bene, quindi ha a che fare Gesù, Cristo ha a che fare con Isaia. dunque il rapporto che c'è tra l'io e il tu, in termini di prossimità, è un rapporto che si allarga ad un altro che ulteriore, verso il quale sia io che tu abbiamo un altro tipo di rapporto. quindi devo sempre valutare il senso della giustizia, ecco che dall'etica automaticamente si passa alla politica, ma di questo poi diremo meglio il fatto che ci sia un terzo, al di là dell'io e del tu, e l'io e il tu sono, come dire, la base del rapporto etico, quindi il tu rappresenta l'alterità, alterità che a volte è alterità assoluta, è totalmente sconosciuta, rispetto all'io. ed è c'è un primo legame di responsabilità, ma poi non c'è soltanto il tu, c'è anche l'altro, la terza persona singolare o la terza persona plurale, verso il quale sia io che tu abbiamo delle responsabilità e queste responsabilità debbono tradursi in termini comunitari, cioè dalla sfera dell'etica si passa alla politica. La sfera della politica, per così dire, quindi la responsabilità politica è la sfera della terza età, del terzo elemento. Filosofia dell'io. Perché filosofia dell'io? Perché dal discorso che abbiamo fatto intorno all'ontologia, all'ontologia forte del mondo occidentale, quella basata sull'essere e quindi sul concetto di assoluta identità, e su una forma di conoscenza che è una forma di apprendimento, cioè di, come dire, ingurgitamento e omogenizzazione del diverso, assimilazione al sé. Quindi è il far ritornare tutta la diversità, tutta l'alterità, tutta la barbarie verso il centro che è l'oichia, che è la casa, cioè il concetto di nostos, di ritorno, di cui abbiamo detto la scorsa volta. Abbiamo mostrato come se il ritorno di Odisseo è in qualche maniera un movimento concentrico, l'esodo di Abramo è un movimento eccentrico, è un andare fuori, un esodare, un muoversi verso il diverso. E allora il contrario della filosofia del tu, che è fondamentalmente etica e gesto etico, è la filosofia dell'io. Ecco, l'ontologia occidentale, la filosofia occidentale, prendendo le mosse dall'essere di Parmenide, passando attraverso Platone, Aristò, il cogito cartesiano, per non parlare della ragione di Kant, o dello spirito assoluto di Hegel, di cui abbiamo detto, ha svolto questo movimento totalizzante che è giunto coerentemente fino al Novecento, quindi anche fino alla barbarie del nazismo, fino al crollo, per così dire, delle illusioni di civiltà e di progresso indefinito dell'Occidente, tutte promesse non mantenute, perché l'Occidente è andato incontro al trauma del ventesimo secolo, è andato incontro ad Auschwitz come metafora della tragedia, del totalitarismo, della tecnica elevata a modello supremo, totalmente disumanizzante, o come l'uomo trasformato in mezzo, in strumento e non più in fine. Il problema che, voglio dire, assilla indubbiamente anche la contemporaneità su questo scorcio d'inizio del ventunesimo secolo, i valori su cui si dovrebbe basare la convivenza civile, a questo punto elevata l'ennesima potenza, cioè su sfera globale, mondiale, sono ancora oltremodo incerti e il Novecento incombe la sua eredità pesa in maniera significativa sul presente. Questo è sotto gli occhi di tutti, evidentemente. Allora, questo movimento per Levinas è stato un movimento opposto a quello dell'etica. L'etica va dall'io verso il tu e quindi tende a rivolgersi al tu che è totalmente altro, è il mettersi nei panni dell'altro, è il dimenticarsi di se stesso, per così dire, o meglio il ricongiungersi a se stesso attraverso gli occhi dell'altro, perché alla fine riscopriamo noi stessi e prendiamo coscienza della nostra interiorità, del nostro proprio volto, del nostro essere quello che siamo attraverso l'altro, mentre la fuga all'interno in maniera concentrica verso l'ego, dunque l'egocentrismo, rappresentano un movimento, per così dire, antietico. Un movimento antietico che però è in linea con quel movimento concentrico che, possiamo dire, ha rappresentato il fil rouge, ecco, la trama del percorso filosofico occidentale. Quindi si parla del destino della filosofia occidentale come destino dell'egocentrismo, di un soggettivismo esasperato, da cui discende anche l'individualismo esistenzialista, nel senso che anche le nuove filosofie esistenzialiste, quindi compresa quella di Heidegger, abbiamo visto che poi il giudizio di Levinas nei confronti di Heidegger e della persona, oltre che della filosofia, è un giudizio fortemente negativo. Tu, Heidegger, che hai formulato questa visione del mondo, questa filosofia, poi hai giurato fedeltà al terzo Reich, quindi anche qui la discrepanza tra la teoria e la prassi è assolutamente lacerante. Ma insomma anche l'esistenzialismo novecentesco, che pure rompe, almeno sembra rompere con la tradizione dell'idealismo ottocentesco, sembra rompere con la visione del materialismo storico marxista, dunque con quei pensieri totalizzanti, onnicomprensivi della vecchia metafisica, tuttavia continua a mantenere invariata quella categoria dell'individuo, dell'individuo come singolo, della singolarità, categoria che abbiamo anche incontrato studiando il pensiero di Kierkegaard. Il singolo è ciò che effettivamente determina il filosofare, è il centro della filosofia esistenzialista. Dunque l'individualismo che segna il destino dell'Occidente non fa eccezione nell'esistenzialismo. Anche l'esistenzialismo, che direbbe Marx è comunque una filosofia borghese, segna questo movimento verso l'individuo, quindi verso l'egocentrismo. E quindi è un, per così dire, è un tradimento dell'alterità, della diversità. Ecco, la differenza con la vecchia metafisica è solo apparente. Qui il tutto è in funzione dell'Io, l'egocentrismo, la voracità dell'Io non conosce limiti, anzi diventa il metron, la misura dell'agire dell'individuo. All'individuo tutto è permesso, tutto in funzione dell'individuo. Oggi questo principio lo si declina, lo si incarna attraverso il consumismo più esasperato, il consumismo che ha, come dire, la sua sirena di ispirazione. Ci ispira, nel senso che ci attira, una sirena che è onnipervasiva, che è quella della tecnologia, no? Dunque la sirena del consumismo ci chiama a sé nei momenti più impensati, nelle pieghe più banali, apparentemente banali della quotidianità, no? Come la classica telefonata della televendita che ci coglie in qualsiasi istante. Dunque tutto in funzione dell'Io, e continua ad essere in funzione dell'Io, secondo i due orientamenti fondamentali, che sono quello della tecnica, argomento di cui si occuperà anche Heidegger naturalmente, e quello dell'economicismo, ecco, a tutto tondo. Come uscire da questa Auschwitz culturale, no? Si chiede Lemina, giustamente si tratta di una Auschwitz culturale, nel senso di una debacle, cioè adesso Auschwitz è terminata, Auschwitz è passata, perché l'attività, diciamo, filosofica di Lemina si svolge, si articola, nelle sue opere principali, quasi tutta dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi Auschwitz è come momento storico alle spalle, per quanto va riconsiderato, va digerito, ammesso che si possa digerire, in realtà Auschwitz è assolutamente indigesto. Ecco, eppure è la lunga, l'ombra lunga di Auschwitz, che è determinata da quella visione filosofica, quella tipicamente occidentale, che abbiamo qui descritto, continua anche oggi, quindi è un'ombra lunga che dura anche nei decenni successivi, e possiamo dire si allunga anche sulla contemporaneità, no? E questo è il, diciamo, il punto di partenza della speculazione di Lemina, è quello che muove effettivamente Lemina, bisogna trovare all'uomo una parentela diversa da quella che lo lega all'essere, a quello di Parmenide, il che permetterà forse di pensare questa differenza tra me e l'altro, questa disuguaglianza, in un senso assolutamente opposto all'oppressione, perché l'oppressione da che cosa è determinata? Dalla volontà di assimilare l'altro all'io, e dunque pensare la differenza tra me e l'altro in maniera diseguale, in maniera diversa, significa andare oltre l'idea dell'ecocentrismo, che dipende dall'essere e che culmina nell'oppressione, cioè nel tentativo totalizzante di ridurre l'uomo a mezzo, a macchina, o peggio ancora, a merce, a corpo, a cosa, tra le cose, no? Ne abbiamo parlato nella precedente lezione. Quindi la passione di Lemina, quella che muove, e la filosofia di Lemina è una forma di umanismo, di umanismo, no? L'urgenza è quella di salvare l'uomo di oggi, l'uomo contemporaneo, salvarlo dal suo proprio egocentrismo, e quindi ricondurlo ad una visione dell'uomo intesa come alterità, come volto dell'altro. Quindi alla totalità egelianamente intesa, si contrappone, nella visione di Lemina, l'idea di infinito, che mantiene l'esteriorità inappropriabile dell'altro, e l'epifania nel volto dell'altro. Infatti il titolo dell'opera, la principale opera di Lemina, uscita nel 1961, è proprio Totalità e Infinito. Allora, i due termini, totalità e infinito, vengono usati in maniera, come dire, alternativa. Da una parte c'è la totalità intesa come punto d'arrivo, come ispirazione fondamentale della filosofia occidentale, quindi la totalità intesa come identità assoluta, e dall'altra c'è l'infinito. L'infinito non si lascia totalizzare, l'infinito è assolutamente sfuggente, l'infinito tende all'altro, e tende alla trascendenza, perché evidentemente dietro l'altro, inteso come essere umano, c'è l'alterità assoluta, che è quella del Dio trascendente, del senso del divino, che non è questo o quel Dio, o più o meno barbuto, o più o meno anziano, non è il Dio di questo o di quella religione, se vogliamo, diciamo, sposare la prospettiva di Lemina, da un punto di vista laico. È il concetto del trascendente come assolutamente altro. Il trascendente, inteso come infinito, che non si lascia appunto controllare, che non si lascia racchiudere, che non si lascia totalizzare nella ben rotonda sfera di Parmenide, si contrappone all'immanenza, al divino inteso come immanente, e tanto immanente è il divino del mondo occidentale, che alla fine ha, per così dire, si è ripiegato sull'uomo stesso, sull'umanità stessa, sulla storia stessa, con Hegel, no? Fino a ripiegarsi su un uomo sempre più brutale, sempre più disumano, sempre più tecnologizzato, per così dire. Quindi l'uomo nuovo rinascerà unicamente dall'impatto che riceverà dall'incontro con il volto dell'altro. Con l'apparizione dell'altro, ognuno di noi, dice Lemina, è come sbalzato da sella, è cavato giù dall'arcione, no? L'idea è questa. L'altro è un elemento taumatico, un elemento che genera meraviglia, sconcerto, e non ci lascia mai indifferenti, ci risveglia dal sogno, o meglio, dall'incubo, dell'ecocentrismo. Quindi occorre salvare l'umano dell'umano, impostando con l'umano, riconoscendo quella che è la struttura fondamentale del rapporto con l'altro, che è un rapporto sempre, comunque, asimmetrico. L'abbiamo visto nel passo precedente, Martin Buber, un altro grande filosofo, sempre ebreo, aveva invece stabilito un rapporto, per così dire, simmetrico tra l'io e il tu. Quindi io scopro me stesso in un tu, che sostanzialmente mi assomiglia, quel quale ha un rapporto di totale simmetria. Invece il rapporto con l'altro, così lo intende L'Evila, è sempre decisamente asimmetrico. Ecco perché genera in me quella tauma, quella meraviglia, che mi porta a superare, a trascendere il mio egocentrismo. Il volto dell'altro è completamente diverso. Ho scelto questa foto, ne potevo scegliere tante altre, ma mi sembra qualcosa di assolutamente inedito dal nostro punto di vista. L'altro si presenta sempre più rarefatto, come anche l'altra cultura, l'altro modo di stare al mondo, l'altro modo di apparire. Un'altra delle prove tangibili dell'egocentrismo, dello spirito identitario, totalizzante, della filosofia occidentale, è evidentemente il segno, che è un segno metafisico, che la globalizzazione ha lasciato sul mondo, ha omogenizzato tutto, ha negato la differenza e continua a negarla. spostandoci da una parte all'altra del mondo, ormai ci ritroviamo a vivere in ambienti da un punto di vista proprio oggettivo, sono l'uno la riproduzione dell'altro, le differenze tendono ad azzerarsi, muovendosi da un aeroporto all'altro troviamo gli stessi prodotti, le stesse sale, gli stessi oggetti, gli stili sono leggermente differenti, ma anche lì la differenza è una differenza che ha un valore puramente commerciale, il doversi differenziare per motivi di offerta commerciale non c'è una vera differenza, anche i volti tendono, se visti diciamo in maniera anonima, tendono a assomigliarsi tutti quanti, come il volto di altre persone, diciamo erroneamente, che ne so, che i cinesi si assomigliano tutti piuttosto che quell'altro l'altra etnia sembrano tutti simili, no, anche noi, noi, ammesso che ci sia un noi o un loro, un noi o un voi, sono evidentemente modi di dire, categorie che lasciano il tempo che trovano, ma insomma questa visione, questo sguardo che omogenizza tutto, rende tutto anonimo, annulla le distinzioni, annulla le differenze, è lo sguardo identitario di cui dicevamo prima, dunque questa foto vuole rappresentare un volto totalmente altro, una diversità che dovremmo tenerci ben cara a livello antropico, a livello umano, ecco perché si parla di un nuovo umanismo, tanto quanto dovremmo curare sulla scia del pensiero di Jonas, non solo di quello di Jonas, di tanti altri di filosofi, dovremmo curare la diversità nella biosfera, la diversità è ricchezza e vita. E dunque arriviamo al punto fondamentale, allo snodo fondamentale della filosofia di Levinas, l'incontro con il volto dell'altro. Anche qui Levinas si rifà ad un concetto del Talmud, che è il testo uno testi filosofico dei commentari della principale commentario alla Torah espresso dal mondo ebraico, chi salva un individuo è come se salvasse il mondo intero. Ecco, questa espressione che troviamo anche nel giardino dei giusti in Israele, il fatto che anche salvare un solo individuo che è il volto dell'altro significa salvare l'intera umanità perché salvi in quella persona specifica salvi l'umanità intera, salvi la diversità, una diversità che ha un valore infinito, infinito, sfugge alla totalizzazione, sfugge all'entizzazione, va oltre. Quindi un infinito, è vero che ci sono infiniti più grandi e l'umanità è una somma di infiniti, ma ogni infinito vale di per sé. Ecco perché la vita di un uomo è il mondo intero, vale il mondo intero. Per cui l'altro non è semplicemente una nostra proiezione, ma è veramente una divinità, è un limite che ci interroga continuamente. Non è qualcosa che noi ci sogniamo, rompe con l'ecocentrismo perché sta lì, è improvviso, ci interroga, ci pone delle domande, ci lancia delle sfide, ci turba, ci interroga. Quindi è realmente elemento filosofico. Il volto dell'altro rappresenta la trascendenza rispetto all'impotenza di uscire dal mondo del paganismo. La trascendenza è quella del divino, quella della totale ulteriorità rispetto a quell'impotenza di uscire dal mondo, cioè all'immanenza tipica della filosofia occidentale che confluisce e che dà vita all'egocentrismo, all'individualismo, alla solitudine del cittadino globale, come direbbe, come ha detto Bauman, Zygmunt Bauman, la solitudine del cittadino globale. Tanti ridanciani con i nostri sorrisi artefatti che fanno capolino nelle pagine dei social e con il nostro individualismo che si solidifica in una solitudine estremamente dolorosa, frammentata. L'altro è quello che ci richiama all'ordine, che ci fa tornare a vivere, che ci fa tornare a rivedere la luce, ma ci fa ritornare a vedere la luce perché ci scuote dal torpore del nostro narcisismo, del nostro vedere il mondo in termini autoreferenziali. Questo è figlio della filosofia, secondo Levinas, è figlio della filosofia immanentista, quindi quella della finitezza, ritorno a sempre la ben rotonda sfera di Parmenide, tipica dell'Occidente. Il comandamento che ci impone il volto dell'altro, l'abbiamo visto nella lettura precedente, è non uccidere. Non uccidere che è la formula fondamentale del rispetto, della considerazione. Tu non mi ucciderai, anche se poi spesso l'altro diventa oggetto di preda, viene, anzi, Auschwitz ci ha insegnato proprio questo, l'altro è diventato una cosa, quindi il comandamento non uccidere si è trasformato nel suo contrario, nell'uccisione, nell'uccisione prima come essere umano, non nella dismalizzazione, dicevamo. Prima di tutto è questo, con diverse sfumature, nei miei primi scritti ne parlavo in modo assolutamente diretto, dice Levinà. Il volto significa non uccidere, non mi devi uccidere, è la sua umiltà, il suo essere senza mezzi, la sua sobrietà, ma al tempo stesso precisamente il comandamento non uccidere. È ciò che si presta all'omicidio, è ciò che resiste all'omicidio. Ecco l'essenza di tale relazione non uccidere che è tutto un programma che vuol dire tu mi farai vivere, tu ti assumerai la responsabilità del mio continuare a vivere. Perché non uccidere è, si dice, si declina in tante maniere diverse. Non uccidere non è tanto e soltanto l'atto stesso dell'uccidere, non uccidere è l'indifferenza, meglio il contrario, l'uccidere è l'indifferenza e l'uccidere. Quindi non uccidere il comandamento che ti risveglia dall'indifferenza e dall'anonimato in cui giaci tu in prima persona e lasci che il mondo dell'umanità intorno a te continui a giacere. Questo significa non uccidere, mi farai vivere, cioè ti prenderai cura di me, ti farai carico di me in un modo o nell'altro. perché io sto lì, io sto lì e per te rappresento un appiglio per rompere ecco la 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 Nella nel tuo isolamento, del tuo anonimato no? A questo proposito mi viene in mente una mi torna in mente una visione che poi è una visione tipica delle religioni del libero quindi la troviamo nell'ebraismo, la troviamo indubbiamente nel cristianesimo e la troviamo anche nell'Islam e in particolare l'ho appresa nella mia autobiografia entrando in contatto con la cultura islamica, ovvero l'idea che colui che ti chiede la carità, il povero, e mi ricordo in particolare questa scena a Marrakesh in Marocco, in questa piazza cosiddetta del nulla, perché in quella piazza si sarebbe dovuta costruire una moschea che non si realizzò mai, e dunque è rimasto questo immenso spazio vuoto che metaforicamente è fenomenale, il vuoto che rappresenta sostanzialmente il divino, quello che non si identifica in nulla di particolare, per questo può essere tutto. Piazza che era costellata di mendicanti, l'idea del mendico è un'idea diversa, il mendico non è quello che dipende da te chiedendoti la carità, sei tu che dipendi da lui, ovvero lui rappresenta per te la chance di andare oltre, di rompere lo schema autoreferenziale del quotidiano, quindi fare la carità è un gesto che tu devi fare ringraziandolo, so che può sembrare paradossale, anzi sembra paradossale ai più, perché noi viviamo in un mondo secondo delle logiche completamente diverse, nonostante ci si professi cristiani, il che è piuttosto curioso. L'idea del povero che rappresenta, per dirla in maniera cristiana, il povero rappresenta per ciascuno di noi, per il buon cristiano, rendendo lo stimolo, la possibilità di andare in paradiso, di guadagnarsi il paradiso, diciamo terra terra, naturalmente il paradiso non è un luogo che si raggiunge con una stairway to heaven, con una scala fatta di buoni propositi e di buone azioni per carità. Però in che senso funziona la metafora? Nel senso che il povero bisognoso, l'altro, che ti si presenta improvvisamente con un volto che poi disturba, crea disagio, crea fastidio, è per te una ancora risolvezza, perché rompe quello schema chiuso del tuo egocentrismo, perché tu non riesci a assimilarlo, non riesci a catalogarlo, e ti dà fastidio proprio per questo, perché non sta al posto giusto, non c'è un posto giusto per lui, per lei, non c'è un posto giusto in una visione assolutamente egocentrata, in cui gli uomini sono categorizzati con delle etichette, per cui hanno delle funzioni sociali, economiche e così via. Quindi il povero come assolutamente altro, da qui ecco la mia esperienza, è un personaggio che ti si presenta poi con un volto molto spesso sorridente, e quel sorriso lì, che uno direbbe, beh è assolutamente enigmatico, ma chi ha da sorridere se si trova in una situazione di grande disagio, di bisogno, di povertà, beh in realtà quello che ti sta dando con quel suo modo di porsi, vale infinitamente di più rispetto a quella moneta che gli lasci cadere nelle mani, nella saccoccia per così dire. E l'altra scena, sempre a proposito del non uccidere con l'indifferenza, del prestare orecchio al discorso dell'altro, alla richiesta dell'altro, è questo spezzare il pane, no? Quindi magari, mi ricordo questo giardino pubblico, sempre in Marocco, in cui le famiglie andavano lì a fare una sorta di picnic, ed era assolutamente normale che spezzando il pane, il pane che assomiglia a una sorta di pizza, ecco, per un pane molto basso, spezzando il pane, normalmente arrivano, potevano arrivare bambini, bambini o comunque altri, persone altre che si trovano a passare là, e il gesto di spezzare il pane, di dare un pezzo di pane anche allo sconosciuto, totalmente altro, all'avventore, è un gesto così normale, così consueto, fatto in maniera così delicata, per così dire, che ti fa riflettere su quello che doveva essere, probabilmente, abbiamo perso, no? Lo spirito originario anche della metafora della comunione cristiana, no? Che so spezzare il pane, che è il gesto del dare all'altro, del darsi, ma insomma, di questo, indubbiamente, c'è qualcuno più titolato a parlare del sottoscritto. Dunque, tu mi farai vivere vuol dire che tu ti prenderai cura di me, non mi ucciderai in primo luogo con la tua indifferenza, no? Il volto si sottrae al possesso, al mio potere. Nella sua epifania, nell'espressione, il sensibile, che è ancora afferrabile, si muta in resistenza totale alla presa. Questo mutamento è possibile solo grazie all'apertura di una nuova dimensione. Infatti, la resistenza alla presa non si produce come una resistenza insormontabile, come durezza della roccia, contro cui è inutile lo sforzo della mano, come lontananza di una stella nell'immensità dello spazio. L'espressione che il volto introduce nel mondo non sfida la debolezza del mio potere, ma è il mio potere di potere, il mio potere di potere. Il volto, ancora cosa tra le cose, apre un varco nella forma che peraltro lo delimita. Il che significa concretamente? Il volto mi parla e così mi invita ad una relazione che non ha misura comune con un potere che si esercita, fosse anche godimento o conoscenza. L'impossibilità di uccidere non ha un significato semplicemente negativo e formale. La relazione con l'infinito o l'idea dell'infinito in noi la condiziona positivamente. L'infinito si presenta come volto nella resistenza etica che paralizza il mio potere, si erge dura ed assoluta dal fondo degli occhi, senza difesa nella sua nudità e nella sua miseria. La comprensione di questa miseria e di questa fame instaura proprio la prossimità dell'altro. Dunque, questo è il paradosso dell'altro, che mi insegna, che mette in discussione il mio potere di potere. Cioè mi sdradica, mi fa vedere un altro modo di potere, un'altra declinazione del verbo potere. Un verbo potere che si declina, per così dire, alla seconda, alla terza persona, o anche alla quarta, alla quinta, si declina verso l'altro e si declina all'infinito. Perché il modo di declinare il verbo potere, è tipico della cultura occidentale, per così dire, della filosofia occidentale, è la prima persona singolare, io posso, e io posso in relazione a me, a me stesso. Quindi è la modalità autoreferenziale. Ma c'è una forma di potere che è enormemente più grande, che è il potere verso l'altro. Quindi il potere di potere. E l'altro mi interroga, mi sfida su questo piano. Ed è una sfida, in un certo senso, irrinunciabile, che mi condiziona positivamente. Mi condiziona positivamente. Perché l'idea dell'infinito, che è rappresentato dallo sguardo dell'altro, quell'idea di infinito, no? Di quel poter procedere in direzione di, senza mai raggiungere, senza mai poter prendere, perché l'altro ti sfugge continuamente, ti condiziona positivamente perché ti mette in moto. E la vita è movimento. Non è ritornare sui propri passi, è andare oltre. E questo andare oltre, il fare nuove esperienze, l'aprirsi al diverso, all'altrove, è il senso fondamentale del trascendente, quindi di quella divinità che si intende come trascendente. Quindi il termine nudità, miseria, il fondo degli occhi senza difesa, anche qui sono altrettante sfide, no? La nudità, per rimanere nudo davanti all'altro, ci vuole un coraggio, come dire, qualcosa che veramente è difficile da concepire, da realizzare. Ti chiama in causa, non può non chiamarti in causa. Il mondo che mi invade, quando mi impegno in esso, non può nulla contro il libero pensiero, che sospende questo impegno o addirittura lo rifiuta interiormente, capace di vivere nascosto. L'essere che si esprime, si impone, ma appunto facendo appello a me, con la sua miseria e la sua nudità, con la sua fame, senza che io possa restare sordo al suo appello. Così, nell'espressione, l'essere che si impone, non limita, ma promuove la mia libertà, facendo nascere la mia bontà. L'ordine della responsabilità, in cui la gravità dell'essere, nella sua ineluttabilità, spegne ogni sorriso, è anche l'ordine in cui la libertà è invocata, in modo così ineluttabile, che il peso irremissibile dell'essere, fa nascere la mia libertà. L'ineluttabile non ha più l'inumanità del fatale, ma la serietà severa della bontà. Quindi qui l'ineluttabile è inteso come dovere, come senso del dovere, come dovere essere nei confronti dell'altro, verso l'altro. Ed è anche una nuova idea di libertà, no? Se noi disassociamo una cosa che, voglio dire, diamo per assodato, per scontato, cioè il concetto che poi è alla base del liberalismo, anche come dottrina politica, o del liberismo, come dottrina economica, cioè che la libertà sia declinabile alla prima persona singolare. Io sono libero, e la libertà è sempre quindi autoreferenziale. Ecco, se lo rompiamo questo concetto, lo apriamo all'altro, ecco che la vera libertà la si guadagna, o la si esprime, verso l'altro. E l'altro diventa la causa della mia libertà. Senza l'altro, senza la sua provocazione, che mi apre orizzonti infiniti, io non sono realmente libero. L'essenza del monoteismo giudaico è proprio questa, no? Il monoteismo giudaico non esalta una potenza sacra, un numen, è un principio divino, che trionfi su altre potenze luminose, ma che partecipi ancora della loro vita clandestina e misteriosa. Il Dio dei Giudei non è sopravvivenza degli dei mitici. Secondo un apologo, Abramo, il padre dei credenti, sarebbe stato figlio di un mercante di idoli. Approfittando dell'assenza di Terè, li avrebbe tutti spezzati, risparmiando il più grande di essi, per attribuirgli agli occhi del padre la responsabilità del massacro. Ma Ter, al suo ritorno, non può accettare questa versione fantastica. Egli sa che nessun idolo al mondo potrebbe distruggere gli altri. Il monoteismo segna una rottura con una certa concezione del sacro. Non unifica né gerarchizza gli dei, luminosi e numerosi. Li nega. Rispetto al divino che essi incarnano, non è altro che ateismo. Su questo punto il giudeismo si sente estremamente vicino all'Occidente. Voglio dire alla filosofia, nel senso filosofico. Ecco, anche il motivo per cui l'ebraismo partorisce anche la laicità, in un certo senso, l'ateismo. Pensiamo a Spinoza, a Marx, di filosofi ebrei. La modernità partorita dall'ebraismo in termini di laicità e di ateismo, un ateismo diverso, un ateismo che diventa umanismo, in un certo senso. Beh, il contributo degli ebrei per l'appunto dei filosofi ebrei è, da questo punto di vista, enorme. Vedete l'aneddoto che cosa si... Che cos'è il monoteismo? Effettivamente, il monoteismo non significa prendere un idolo e levarlo al di sopra degli altri. Quella è una forma di monoteismo falso. È sempre un politeismo. Pensate alla sintesi operata in epoca imperiale, nei primi secoli dopo Cristo, dall'ostruicismo, dal neoplatonismo, no? E per cui tutti gli dèi alla fine sono Zeus, dunque sono manifestazioni dell'unico Dio immanente. Ecco, quindi è un Dio che li raccoglie tutti, li totalizza, li organizza, li rende organici, no? Quindi la differenza che è differenza relativa, ma che esprime sempre l'unica sostanza, l'unico Dio immanente, e così via. Invece l'immagine che ci viene dall'ebraismo, che è un'immagine altamente filosofica, come dicevo prima, è l'immagine del fare piazza pulita di tutti gli idoli, di tutti gli dèi. Non ce n'è più nemmeno uno, non ce n'è uno che si eleva al di sopra degli altri, no? E anche se qui, ecco, metaforicamente, un solo idolo avrebbe massacrato, avrebbe distrutto tutti gli altri idoli. L'idea è via gli idoli, via l'idolatria, cioè Dio, il divino, non è qui, non lo possiamo rendere immanente, sta oltre, tende all'infinito, è asintotico, per così dire, no? E dunque questa prospettiva è veramente filosofica, se, ripeto, per filosofia intendiamo quella divina mania, quell'apertura all'altro, a ciò che muove il nostro desiderio, proprio secondo la lettera del simposio di Platone, no? Questa penia, questa estrema povertà, questa mancanza, che genera un desiderio che tende all'infinito, mi viene in mente anche l'infinito di Leopardi, no? Muoversi verso l'infinitamente altro, che lì si declina in termini spaziali, temporali, no? La massima apertura possibile. Ecco, ho scelto qui una figura, che è quella di Abramo, no? Un ritratto di Abramo che identifica questa visione della filosofia ebraica, no? E quindi del modo di intendere la religione tipico dell'ebraismo. La dimensione della solitudine come evento dell'essere, perché? Beh, l'ho già anticipato, in effetti il chiudersi in se stessi, quindi quel principio di identità, di omogeneizzazione, produce l'estrema solitudine del cittadino globale, citato prima Bauman. E quindi, dice Levinà, siamo circondati da esseri e da cose con i quali intratteniamo relazioni. Siamo con gli altri con la vista, con il tatto, con la simpatia, con il lavoro in comune. Io tocco un oggetto, vedo l'altro, ma non sono l'altro. Tra esseri ci si può scambiare tutto, tranne l'esistere. Allora, questo è il punto, perché in ultima istanza, la solitudine è un dato, diciamo, di tipo culturale, ma è anche un dato di tipo esistenziale. Ecco perché da qui la necessità di affidarsi all'altro, al totalmente altro, quindi a quell'idea del divino. Perché poi ci sono esperienze, che sono le esperienze fondamentali della nostra esistenza, come il nascere, il morire. Fermo l'estante, che poi il nascere e il morire sono metafore di ogni singolo momento della nostra vita. Nasciamo e moriamo in ogni istante, no? Poi ci autoconfortiamo con una sorta di senso comune, con i gesti quotidiani, ma affrontare direttamente la trama della nostra esistenza, cioè il fatto che l'essenza della nostra esperienza esistenziale non è condivisibile. Neanche il genitore più amorevole può pensare di morire dalla morte del figlio, che è un pensiero assolutamente inconcepibile. devastante, per così dire, no? Ecco, pensate, evidentemente, allo shock che ti provoca. L'altro shock, che in questo senso, sia positivo che negativo. Positivo perché ti riscuote dal tuo sonno dogmatico, no? Ti fa prendere coscienza del tuo limite, della tua solitudine esistenziale, ma nello stesso tempo ti porta a metterti in dialogo con l'alterità, che è un modo per stirare questa solitudine, per viverla come potenzialità di apertura, no? Come potere di potere, quel potere di potere. Cioè sono solo, sono solo, ma sono solo in maniera diversa, perché il mio essere solo è un tendere verso il trascendente, verso l'altro. E non è un solo ripiegato su se stesso. Faccio della mia solitudine, della mia unicità, qualcosa di significativo, di autentico. Ed è sempre lo sguardo dell'altro che mi aiuta a compiere questo passo. Dunque l'alterità è un atto di nascita. Quindi io nasco come persona, mi scopro come persona, grazie all'altro. L'altro è quello che mi ricorda chi sono io. Prendo coscienza di me stesso attraverso lo sguardo dell'altro. Attenzione, non sono in grado di vedermi realmente. Il tuo volto entra nel nostro mondo provenendo da una sfera assolutamente strana. Cioè, precisamente da un assoluto che d'altra parte è il nome stesso dell'estranità profonda. Il volto è visitazione. Cioè, quando mi si accosta il volto dell'altro, si atta a una, dice Levinà, una visitazione dell'essere. Dell'essere inteso in una maniera più ampia possibile. Quindi qui è l'essere non inteso come essere omogeneizzante, totalizzante. Non è l'essere di Parmenide. È l'essere inteso come infinitezza, come infinità, cioè come apertura massima. Quindi il volto mi viene a visitare. E quando mi viene a visitare mi fa prendere coscienza di me stesso, cioè messo di fronte all'esperienza del diverso che rompe gli schemi quotidiani, che rompe quelle visioni assolutamente pretestuose su cui si basa la nostra pigrizia di stare al mondo, per così dire, entriamo in contatto con quella dimensione ulteriore che rappresenta l'estranità profonda. Ecco, altro elemento interessante che mi premiva trattare anche a beneficio di alcuni studenti che stanno lavorando in quella direzione è il tema dell'Eros. Il tema dell'Eros che per Lenina è inteso in maniera anche qui come apertura all'altro. Quindi l'Eros non è mai paritetico, è un pochino una negazione del mito di Aristofane, quello che Aristofane, il personaggio Aristofane racconta nel simposio di Platone, quello degli esseri in forma di palla che vengono separati dalla folgore di Zeus per cui poi ogni metà cerca l'altra metà, cerca di ricomporre quella omogenità, quell'identità. Anche qui c'è l'immagine della sfericità, a cui ci siamo riferiti a più riprese. Ecco, quindi l'Eros è inteso da una certa cultura come la metà che incontra la sua metà che si fonde pienamente in esse. Ecco, invece per Lenina l'Eros, il vero Eros è la sfida rappresentata dall'altro, l'altro è sempre asimmetrico, sempre non assimilabile e questo è quello che causa, che crea il desiderio, che è sempre il desiderio dell'altrove, dell'altro. E allora io continuo a provare questa tensione erotica, erotica nel senso letterale, nel senso filosofico, nella misura in cui l'altro mi sfugge. Ed è questo, come dire, anche il sale di un rapporto che dura nel tempo, cioè la sfuggevolezza dell'altro. È nel momento in cui l'altra persona, il partner o chi per lei, un amico, mi diventa assolutamente familiare, cioè all'assimilo alla mia visione delle cose, all'inizio a dare per scontato, è in quel momento lì che il desiderio va, per così dire, scemando, il desiderio inteso ovviamente in senso lato, no? Quando mi abituo a, dall'abitudine deriva la noia, l'angoscia, sostanzialmente. Quindi l'eros, l'alterità erotica rappresenta il diverso, la diversità, l'assolutamente altro, non assimilabile. Questo è anche il rapporto tra il maschile e il femminile, no? Il femminile è l'origine stessa del concetto di alterità che non scompare, non si assimila nella relazione amorosa. Chiaramente questo è il punto di vista di un uomo, Lévinà, si potrebbe dire la stessa cosa della donna rispetto all'uomo, no? Evidentemente. La differenza di sesso non è la dualità di due termini complementari, infatti i due termini complementari suppongono un tutto preesistente. Ora, dire che la dualità sessuale suppone un tutto significa porre già prima l'amore come fusione e dunque come annullamento dell'ego, quindi tornare al mito di Aristofale, quello presente nel simposio che dicevo prima. Quindi la relazione non neutralizza, neutro, che viene dal latino neutrum, né questo né altro, non neutralizza l'individualità. La conserva, nel senso, la rende dinamica nel dialogo e nella relazione e nel cambiamento, è in questo tendere a, un tendere continuo, è il desiderio che sostanzialmente rappresenta la spina dorsale dell'amore. Allora, in termini metaforici, religiosi, il desiderio è di ciò che non può essere raggiunto, che non può essere toccato con mano, perché è l'infinito stesso, è il silenzio, l'essere, quella sfera, quella sfera interiore che ti appaga con il suo non essere segno di appagamento, ti appaga perché non ti appaga, non so che è difficile dirlo, anche concepirlo, non che dirlo, il fatto di stare continuamente in tensione che ti apre verso questa dimensione altra, enorme, ulteriore, e questo è il segreto dell'amore. Dunque, il femminile, il femminile rispetto al maschile, ma ripeto, possiamo anche declinarlo nel senso opposto, andando oltre le vinano, la differenza di genere è fondamentale perché instaura una relazione complementare di alterità, di differenza, di differenza che è di stimolo sia per l'uno che per l'altro, per così dire, se volessimo semplificare diciamo l'umanità nei due generi maschile e femminile, semplificazione che mi guardo bene dal fare, ma insomma l'altro si declina, ripeto, in tante maniere diverse, ma prendendo come simbolo i due generi dalla tradizione epitagorica in poi maschile, femminile, luce, tenebre, uno molti, eccetera, eccetera, possiamo dire che l'idea è questa, l'idea dell'alterità, del diverso, del dispari, del pari in realtà, perché il dispari nella visione epitagorica, nella visione classica, è il finito, il chiuso, quindi il pari è quello che fa scoppiare l'identità e rappresenta l'infinità, il molteplice, l'alterità in generale. Per simboleggiare Eros ho scelto Canova, mi sembra, Amore Psiche, mi sembra una scelta illuminante, come è luminoso il volto del ragazzo, l'incontro con Dio avviene nel prossimo, leggiamo Levinà, anche qui, credo che non ha bisogno di molti commenti, non può esserci alcuna conoscenza di Dio a prescindere dalla relazione con gli uomini, altri è proprio il luogo della verità metafisica, indispensabile al mio rapporto con Dio, non ha affatto il ruolo di mediatore, altri non è l'incarnazione di Dio, ma appunto attraverso il suo volto nel quale è disincarnato, la manifestazione della maestosità nella quale Dio si rivela. Allora, vedete, il rapporto con la religione, così come ce la immaginiamo, è totalmente invertita, che poi è l'essenza del cristianesimo, noi siamo abituati a immaginare, a reificare, a ontologizzare Dio, Dio che ci comanda di amarci gli uni con gli altri, come Lui ha amato noi, in realtà, qui Dio rimane veramente sullo sfondo, ma nella cultura ebraica, Dio rimane sullo sfondo, ma è l'altro che ci guida verso Dio, è l'altro che ci insegna la strada e l'apertura verso l'assolutamente altro che è Dio, non è l'assolutamente altro che ci impone, non è soltanto mutatis, mutandis, è l'infinitamente altro, cioè il divino che ci impone, che ci costringe di considerare l'altro prossimo, l'essere umano in sé per sé, ma è attraverso l'esperienza dell'altro, l'essere umano che scopriamo Dio, quindi la religione, ciò che mi lega effettivamente, parte dal rapporto interpersonale, in cui io mi scopro come persona nella misura in cui mi getto e mi perdo nello sguardo dell'altro, faccio mio quel comandamento che è non uccidere, che non è dettato da Dio, dal Dio che detta a Mosè le tavole della legge, ma è dettato dal volto dell'altro, sta lì, non uccidere. La fotografia dell'abbraccio tra due bambini mi sembrava assolutamente appropriata come luogo in cui nasce l'etica e insieme all'etica nasce la spiritualità, per così dire. Ebbene, il primato dell'ascolto perché questo è un pochino il senso finale dell'insegnamento di Levinà, della visione di Levinà. Siamo abituati, siamo logocentrici, oltre che fallogocentrici direbbe Derrida, filosofo che poi con il quale Levinà è stato in dialogo negli anni 60 e negli anni 70. Siamo logocentrici, il logocentrismo o il fallogocentrismo facendo riferimento all'organo maschile quindi a una certa visione maschilista ma al maschile ecco tipica della cultura occidentale fa del logos tutto avvolgente che riempie tutto che tenta di dire tutto e quindi di possedere tutto fa il centro della comunicazione mentre ci si dimentica e qui veramente ha molto a che vedere con la categoria dell'alterità dell'apertura verso l'altro la vera relazione la vera comunicazione ha a che vedere col silenzio quindi con la capacità di ascoltare abbiamo una bocca sola ma due orecchie c'è il noto proverbio perché dobbiamo ascoltare due volte e parlare una volta sola o meglio riuscire a tacere dico io che ho problemi a tacere visto che il mio mestiere consiste nel parlare quindi la capacità di stare a sentire ricorda dal punto di vista dell'acustica quella che è la capacità di stare a guardare di stare a vedere anche il verbo vedere quello legato alla vista pensate in italiano in quante diverse maniere si declina ma noi non le consideriamo quindi un conto è dire vedere un conto è dire guardare o riguardare perché c'è la cura c'è l'attenzione verso ciò che si guarda oppure osservare considerare contemplare eccetera eccetera ecco e così ascoltare vuol dire mettersi a disposizione di fare un attimo silenzio ma se non fai silenzio l'altro non lo vedi vedi solo te stesso il chiacchiericcio interiore queste forme di narcisismo autoreferenziale che sono testimoniate dai social non perché i social siano lo strumento del demonio Dio ce le guardi e liberi ma perché sono luoghi in cui si manifesta questa che è uno spirito dei tempi è una struttura metafisica della contemporaneità quindi l'ascolto l'ascolto che è il cuore delle pratiche filosofiche della consulenza filosofica in particolare il volto si sottrae al possesso si trottrae al mio potere l'espressione che il volto introduce nel mondo non sfida la debolezza del mio potere ma il mio potere di potere il volto mi parla e così mi invita ad una relazione che non ha misura comune con un potere che si esercita fosse anche godimento o conoscenza ovvero solo la relazione tra soggetti potrà garantire un'autentica società pluralistica e autentica pace vedete come dall'etica si passa alla dimensione della politica e infatti ne ho già parlato responsabilità per l'altro significa prendere in considerazione la terza età il terzo ecco la sfera politica questo è il testo che ho letto commentato all'inizio della lezione mi avvio verso la conclusione apertura carità accoglienza sono niente senza il senso di giustizia che si basa appunto sul concetto del terzo il prendermi carico del rapporto con il terzo nel momento in cui sopraggiunge il terzo chiamiamolo la persona c accanto alla persona b non posso fare altro che chiedermi pur amando incondizionatamente sia b sia c qual è in realtà il loro rapporto reciproco forse b ha derubato c forse c ha offeso o minacciato mortalmente e quindi all'apertura verso l'altro nel senso di caritas per così dire si deve unire il senso di giustizia giustizia è ciò che mi consente è quella sensazione il sentimento quell'idea che mi consente di effettuare la triangolazione con il terzo cioè creare un poligono chiuso ecco un triangolo che abbia abici come lati immaginatevelo così una relazione che si chiude ed è la dimensione del politico allora in effetti la caritas la carità che è la linea che va da A e B senza la triangolazione la chiusura del poligono che è rappresentata la giustizia è per così dire incompleta non riesce ad essere del tutto autosufficiente e quindi la giustizia dice Levinà presuppone lo Stato è il primato della legge ecco a che cosa serve lo Stato effettivamente come regola della comunità è stato che è lo Stato lo Stato di diritto evidentemente non lo Stato totalitario lo Stato basato sul primato della legge cioè della giustizia se noi fossimo stati in due nella storia del mondo ci saremmo fermati all'idea di responsabilità responsabilità ma dal momento in cui ci si trova in tre si pone il problema del rapporto tra il secondo e il terzo e dunque alla carità iniziale si aggiunge una preoccupazione di giustizia e quindi l'esigenza dello Stato della politica la giustizia è una carità più completa è il poligono di cui dicevo concludiamo concludiamo con il volto ironico di Levinà a proposito dello sguardo dell'altro che non c'è più ma con le sue idee continua a interrogarci poi vi suggerisco stanno nel padlet quindi è disponibile per tutti basta collegarsi all'indirizzo giusto che indico nel pie di pagina di youtube c'è questa intervista a Levinà quella della tv di cui vi dicevo estremamente interessante e quest'altra questo è un podcast anche qui molto suggestivo che parla del desiderio dell'invisibile è un modo per stare in compagnia di se stessi per maniera produttiva e significativa per una decina di minuti spero di essere stato esauriente vi saluto di minuti 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 di minuti